possibile. Tivolona e chiude Radio Coppa. Angelo Pompameo di Tivolona, buonasera Svaletti. Lei ha un grandissimo merito, quello di aver rivitalizzato giocatori come Rachmani, Juan Jesus e Lobotka, sia sotto l'aspetto tecnico che tattico che psicologico. Perché non ci è riuscito con Goulam? Io non ho meriti di nessun genere, io alleno dei calciatori, cerco di allenarli in maniera corretta, però poi quello che vanno a chiappare, il merito è sempre di loro. In questo caso qui verrebbe da dire anche dei meriti, però non si tratta di Goulam perché lui effettivamente l'ho limitato io, l'ho limitato facendo scelte differenti e lui invece fa vedere di essere un professionista che andrebbe a guadagnarsi più attenzione con il comportamento che ha e essendo ancora un momento dove c'è un pezzo di partite importante di più alla fine e sono convinto che in quel pezzo di partite lì lui riuscirà a ritagliarsi lo spazio che ha meritato e che non ha avuto a causa mia fino a questo momento ma che può andare a usare in futuro. Grazie a lei.